come sempre tre sospiri per lasciare andare i pensieri e nel momento in cui chiudi gli occhi sprofonda nel momento presente la meditazione di oggi è dedicata al radicamento radicamento percepisci i punti del corpo appoggiati a terra prova a immaginare che il tuo peso diventi maggiore lasciati sprofondare alla terra e permetti così al tuo corpo di mettere radici senti senti la presenza di queste radici che ti rendono stabile nella tua seduta e dalla base del tuo corpo ora vorrei che sentissi un'energia risalire dalla terra il colore è rosso puoi sentire una presenza di energia come una ruota che gira alla base della tua colonna il colore è rosso il colore è rosso porta la tua attenzione lì alla tua base inspiro sono nel qui espiro sono nell'ora una base salda una base forte la sensazione di essere esattamente dove dovresti essere esattamente lì la sensazione di essere al sicuro sono al sicuro sono qui e ora sono radicato e sono sostenuto sono stabile e sono accolto inspiro ed espiro ti invito a portare le tue le tue dita toccare terra ai tuoi lati e percepire come anche le dita diventano ora delle radici e dalla terra e dalla terra la madre terra assorbi l'energia che ti serve per allungarti per aprirti il colore rosso il colore rosso questa linfa vitale linfa vitale primordiale dalla quale dalla quale tutto nasce rinasce si rigenera si rigenera stai qualche istante nella presenza della terra di questo primo centro energetico in questa sensazione di sicurezza sono esattamente dove devo essere sono nel qui e ora muladhara chakra il primo chakra della radice ringraziati per questa pratica un sorriso mani congiunte un inchino verso te stesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti